2 milioni di tappi e 40.000 foto, i numeri di Roar, il progetto ambientale di Estra e Straligut che ha coinvolto 4.500 alunni di 179 classi di scuole primarie di Ancona, Arezzo, Grosseto, Perugia, Prato e Siena. Proseguono le aperture scaglionate degli store di Estra, tra gli uffici di capoluogo aperti Arezzo, Grosseto, Prato e Siena. Per orari e per verificare se sono aperti o chiusi, consultare la pagina estra.it. Attesa esterna, ingresso una persona alla volta, obbligo mascherine e igienizzazione mani, divieto assembramenti, sono le regole d'accesso agli uffici di Estra, in linea con le disposizioni governative anti-Covid. Estra ricorda che sono a disposizione per i clienti anche canali alternativi di comunicazione riservati e sicuri per svolgere le stesse pratiche che si fa negli uffici al pubblico. Grazie.